Tutto il Mese Mariano dal Santuario delle Croci sarà trasmesso in diretta su Canale 12 al Digitale Terrestre, il tasto 12 del Telecomando e sulla nostra pagina Facebook. Si partirà domani pomeriggio alle 16.30 con l'apertura ufficiale del Mese Mariano che sarà presieduta dall'Arcivescovo di Sassari, Monsignor Gianfranco Saba. Seguirà il Rosario. Dal 1 maggio dunque tutti i giorni alle 16.30 in diretta da San Pietro, dal lunedì al sabato la Santa Messa in TV e sul web. Da domenica la Santa Messa verrà celebrata dall'Arcivescovo Monsignor Saba alle ore 10 e trasmessa sempre in diretta sul Digitale Terrestre al tasto 12 e in contemporanea sulla pagina Facebook, visibile da tutti i telefonini e smartphone. Un impegno della Diocesi di Sassari per portare nelle case le attività pastorali che si svolgeranno nella Chiesa di San Pietro a Sassari per le celebrazioni del Mese Mariano anche in periodo di emergenza a causa del coronavirus, che impedisce ai fedeli di presenziare le funzioni all'interno del Santuario della Madonna delle Grazie. 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 Grazie.